Ci vorrà un altro anno ancora, prima di inaugurare la sede del Maxi all'Aquila nel restaurato Palazzo Ardinghelli. La conferma arriva dall'onorevole Giovanna Melandri, presidente della Fondazione Maxi. All'Aquila ci sarà la prima sede di staccate del Maxi, come è noto. L'obiettivo è creare collaborazioni con le realtà del territorio, in primis proprio con l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. Sono qui perché siamo consapevoli che questo è un territorio ricchissimo di istituzioni culturali, di una storia nella cultura, nella scienza, nell'arte importante. Quindi siamo anche consapevoli che questo progetto del Maxi atterra in un territorio ricco e quindi siamo consapevoli di dover lavorare, fare rete con queste istituzioni. Il progetto del Maxi è in corso, realisticamente ci vorrà ancora circa un anno prima di poter inaugurare il museo. Per noi è una bella sfida, per il Maxi nazionale che mette a disposizione l'utilizzo della sua collezione e speriamo di poter contribuire con questa avventura al rilancio e al pieno sviluppo di qualità e anche di qualità culturale di questo territorio che, ripeto, ha una storia ricchissima e poi sappiamo essere stato anche ferito dal terremoto. Grazie.